Adesso ti dirò perché sei qui. Lo so, vuoi sapere perché e soprattutto vuoi sapere chi è stato. Ti hanno detto che non c'era alternativa, ti hanno detto che il tuo paese era in emergenza. Hanno fatto il contrario di quello che ti avevano promesso e adesso non ti fidi più di loro. In realtà le cose sarebbero potute andare in modo diverso e ti assicuro che possono ancora cambiare. Accomodati pure, non avere paura. Stai vivendo in un mondo fittizio. Questo è il mondo che esiste oggi. Non abbiamo vinto anche se siamo arrivati prima. Uno su quattro ha tradito. 395 voti impallinano Romano Prodi al quarto scrutinio decretando uno shock all'interno del PD. Di direttamente chi vuoi che non fa rincazzare i tuoi elettori. Stanno lanciando le monetine a passina. Questa è una vergogna. Hanno tradito i loro elettori, hanno tradito il loro paese. Un pezzo del gruppo dirigente del PD ha pensato di poter decidere per tutto il partito e per tutti i direttori del partito come se il PD fosse di sua proprietà. Hai ancora un'alternativa? Una possibilità? Puoi scegliere. Pillola rossa o pillola blu? Pillola blu, fine della storia. E domani ti sveglierai nella tua camera e crederai quello che vorrai. Se prendi la pillola rossa... E domani ti sveglierai nella tua camera.